Una commissione d'inchiesta. La chiede il presidente dell'Associazione Basta Vittime sulla strada statale 106 Fabio Pugliese che ha investito della richiesta tutti i deputati calabresi. Dal 1996 su quell'arteria che è conosciuta come la strada della morte sono avvenuti 9.000 incidenti che hanno provocato 24.000 feriti e oltre 600 morti. Una strage su cui da tempo l'Associazione chiede attenzione ad interventi concreti anche in virtù, sottolinea Pugliese, dei costi sociali nettamente superiori a quelli necessari per l'amodernamento. Ma non solo. Sulle 106 insistono criticità strutturali e quindi risolvibili oltre a mancata manutenzione. Scarsa poi l'illuminazione mentre molti, i garrei, non sono a norma o sono del tutto assenti. Alla commissione parlamentare d'inchiesta Pugliese chiede che lavori per verificare la responsabilità oggettiva, riconducibile anche alla strada e soprattutto alla sua incapacità di poter gestire gli attuali volumi di traffico e alle pessime condizioni nelle quali versava e continua a versare tutt'oggi. Intanto, nonostante il nuovo anno sia iniziato da poco, la 106 ha già versato il suo tributo di morte, un 27enne per il quale non c'è stato scampo. Tiziana Bagnato per la C News 24. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS